A Chieti la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 1.500 prodotti non conformi alle normative imposte dall'Unione Europea e dannosi per la riproduzione e la salute del feto. Nello specifico una pattuglia del Servizio di Pubblica Utilità 117 del gruppo Chieti, coordinato dal tenente colonnello Vito Casarella, ha portato al sequestro penale di cosmetici, giocattoli, articoli sportivi e apparecchi elettronici in un'attività commerciale di Chieti. Risultati sprovvisti dei requisiti di conformità e sicurezza in palese violazione del Codice del Consumo. All'esame dei finanziari si è evidenziata la presenza nella lista di ingredienti di alcuni articoli destinati alla cura della persona del composto chimico Lilial, un'aldeide aromatica di sintesi denominata butilfenil-metilpropional, ritenuto reprotossico, ossia dannoso per il sistema riproduttivo e per la salute del feto. E' pertanto vietato dal regolamento dell'Unione Europea dal 1 marzo del 2022. A conclusione dell'ispezione delle fiamme gialle, il titolare dell'esercizio è stato segnalato alla locale autorità giudiziaria per detenzione e commercializzazione di prodotti cosmetici dannosi per la salute umana, che prevede la reclusione da 1 a 5 anni e una multa non inferiore a 1.000 euro alla Camera di Commercio per l'adozione della sanzione amministrativa stabilita da 516 a 25.823 euro.